Perquisizioni tra Arezzo e Milano per abusivismo finanziario, 5 gli aretini indagati e 3 le società perquisite. L'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Arezzo, scaturisce dalla scoperta di una presunta attività illecita di promozione di prodotti finanziari, collegata ad operazioni in criptovalute e portata avanti da un'organizzazione con base ad Arezzo che si è avvalsa di società estere con sede in Slovenia. Secondo gli inquirenti, alcuni procacciatori, attraverso eventi ed incontri formativi organizzati presso lussuose strutture alberghiere, avrebbero promosso numerosi investimenti in valute virtuali, come i bitcoin, facendo leva sull'onda emotiva degli ottimi rendimenti finanziari. I potenziali investitori sarebbero stati invitati ad effettuare dei bonifici verso conti esteri riconducibili ad una società slovena dietro la promessa di allettanti profitti. Un'altra strada era quella dei wallet personali, portafogli elettronici creati su apposite piattaforme informatiche per la gestione dei movimenti in criptovalute con l'obiettivo, secondo i finanzieri, di dirottare poi il denaro sempre verso l'estero. Un'attività che avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro a danno di decine di vittime, in particolare a retini e senesi. La Guardia di Finanza invita tutti coloro che pensano di essere caduti in questa trappola a denunciarlo. Secondo gli inquirenti ci sarebbero ancora tanti investitori ignari.